Buonasera a tutti, come ben sapete sono Strazzi Domenico, primo ufficiale del Costa Diadema. Innanzitutto voglio ringraziare tutti voi per quello che avete fatto per farci approdare nel porto di Piombino, in modo particolare mia moglie e mia mamma per quello che hanno fatto da casa, perché io da qui ho fatto ben poco. Quelle che si sono mosse, le veri artefici di tutto questo sono loro. Vi ringrazio perché avete, vi ringrazio, poi voglio ringraziare in modo particolare anche il sindaco di Piombino che ha permesso il nostro attracco. Qui adesso a bordo l'umore, sono tutti felici, appena siamo arrivati appunto è arrivata la sanità marittima per fare i controlli che stanno svolgendo a tutt'ora, penso faremo la nostra quarantena se uscirà qualche Covid, qualcuno positivo al Covid-19. E nel frattempo la cosa più importante è che siamo qui in porto e possiamo avere assistenza medica se dovesse essercene bisogno. Io spero che non ce ne sia bisogno. Mi dimenticherò sicuramente di ringraziare qualcuno, ma non lo faccio per cattiveria. Allora, visto che siete stati in tanti veramente a condividere i miei video precedenti, non so cosa dirvi, l'unica cosa che vi so dire è grazie, perché così avete per me un grazie sia dalla costa di Adema e dalla costa di Adema che da tutta Costa Crociera. L'unica cosa che voglio ricordare è che questa situazione, cioè non voglio che questa situazione si ripeta per le altre tre navi che sono dietro di noi, il costa Mediterraneo, il costa Fortuna e il costa Deliziosa, che anche esse stanno rientrando in Italia. Speriamo che non ci sia bisogno di fare un'altra volta tutto questo pandemonio per farli attraccare in un porto. Grazie a tutti davvero.